Beh, era giusto che anche io provassi a cimentarmi in questa iniziativa di leggere mostrando anche il viso. Allora, siccome mi piace tanto leggere, mi piacciono le fiabe, mi piacciono le favole, mi piacciono le leggende popolari, oggi ho deciso di leggere queste fiabe piemontesi, fiabe piemontesi, che sono state scelte da Gianluigi Beccaria e tradotte da Giovanni Arpino e sono dedicate a tutti i nostri amici piemontesi che in questo momento stanno attraversando il brutto periodo del coronavirus. I tre ragazzi. C'erano una volta tre ragazzi che andando per il mondo si trovarono in una città tutta tappezzata di nero. Ne domandarono il perché. La gente gli rispose che lì vicino c'era un mago. Tutti gli anni veniva tirata a sorte una ragazza e quel mago se la pigliava. I ragazzi domandarono quale ragazza era toccata al mago e la gente rispose la figlia del re. Allora i tre dissero noi siamo capaci di liberarla. Gli rispose il re se siete in grado di liberare questa figliola ve la do in sposa. Loro vanno, vanno, vanno. Trovano un pozzo profondo. Calano una fune per scendere. Ma il primo ha paura di tentare e così il secondo. Scende il terzo che ha il coraggio del cacciatore. Arrivato in fondo si trovò in una sorta di città. Carrozze che vanno e che vengono. Un gran castello. Il ragazzo entra nel castello che è del mago e vede la figlia del re che subito scoppia a piangere e gli consiglia di andar via perché il mago sta arrivando e di certo lo mangerebbe. Ma lui risponde. Andiamo piano col mangiarmi. Anch'io potrei mangiare lui. Arrota la spada. Sfodera la pistola e di lì a un attimo ecco la voce del mago che avanza. Chi c'è nel mio castello? Sento d'ordi cristiano. Ne farò un bel boccone. Se hai cuore vieni avanti gli risponde il giovane. Il mago afferra la spada e vengono così a duellare. Sei teste il ragazzo taglia il mago ma costui chiede un attimo di sosta e subito le sei teste rispuntano. Ricominciano e nuovamente il giovane recide le sei teste. Ancora il mago chiede sosta ma il giovane rifiuta e taglia la settima testa finendolo. Vedi ho ammazzato il mago. Sarai la mia sposa si rivolge alla ragazza. Lei liberata consente. Allora tornarono al fondo di quel pozzo. Lui legò la fanciulla ad una fune e i suoi fratelli la tirarono su. Ma qui il giovane volle fare un pensierino. Chissà che non mi tirino su un poco e poi mi lasciano cadere per ammazzarmi? E così al posto suo legò una pietra ed ecco che i fratelli tirano su. Solo un poco e quando la fune è a metà strada la lasciano andare. Ma il giovane fattosi furbo si salva. Torna al castello del mago. Gira rigira e vi trova una vecchina. Sei la madre del mago? Aiutami ad uscire se no come ho ammazzato tuo figlio ammazzerò te. E la vecchina. Io non so niente. E il giovane vuoi morire? E la vecchina. E va bene ci deve essere un sacchetto di chiodi da qualche parte. Faremo una scala e con la scala uscirai dal pozzo. Ficcero infatti la scala e il giovane uscì all'aria aperta. Con il suo schioppo in spalla se ne va a raggiungere i fratelli. Gli dice bella gente che siete. Bella figura volevate farmi fare. E i fratelli. Perdonaci. La corda si è strappata. Ti credevamo morto. E lui. Pazienza. Vi perdono. Partirono tutti assieme. Arrivando poi in un luogo dove c'era un fiume da attraversare. Ma come furono sulla barca. Ecco rispuntare il mago che volava in aria come un temporale. I due fratelli dissero al terzo. Sparagli. Tu che sei cacciatore. Costui tirò e colpì. E il mago cascò sulla barca fracassandola. Uno dei tre fratelli era legnaiolo. E così gli altri dissero. Tu aggiusta la barca se no affogliamo. E questi accomodò la barca. Superato il fiume la figlia del re si accorse di avere le scarpe rotte. Ma uno dei fratelli era calzolaio. E gli altri gli dissero. Falle un paio di scarpe. E lui le fece. Arrivarono alla casa del re. Che fece tappezzare la città tutta di rosso. E chiese. Chi è il giovane che liberò mia figlia? Il cacciatore rispose. Sono io. Il legnaiolo rispose. Se non aggiustavo la barca sarebbe affogata. Il calzolaio aggiunse. Se non le facevo le scarpe mai sarebbe arrivata. Tra chi diceva una cosa. E chi l'altra? Il re. Per evitar litigi decise. Basta. Mia figlia non la darò a nessuno. Però vi darò altre tre mogli. I tre giovani si dissero ugualmente contenti. E con le spose tornarono a casa festosamente.